Anche perché c'è l'ambiente che manda un po' tutto il nostro cuore, per questo è una vittoria che aiuta anche a recuperare il momento. E dopo è anche certo che i giocatori che sono più adatti o che hanno più questa continuità di partite consecutive, anche fisicamente, cioè condizionalmente, hanno già questa capacità di recupero. Comunque io vedo con Giuseppe che lo sta facendo molto ma molto bene, ha superato anche molto bene, anche perché è sempre più allegro, si sente sempre più meglio e di conseguenza è l'alimentazione.